Infocato Consiglio regionale, quello che si è svolto martedì scorso ad Ancona, in aula si discuteva la modifica allo statuto che dispone l'assetto dell'assise. L'Assemblea legislativa ha dato il via libera alle proposte di modifiche statutarie in prima lettura, che prevede così la possibilità di nominare sei assessori esterni con 23 voti favorevoli e cinque contrari, mentre Fratelli d'Italia e parte di Forza Italia hanno abbandonato l'aula. Ma l'aspetto più importante di tutta la vicenda è il voto favorevole del nuovo centrodestra. Il Partito Democratico ha vinto così il braccio di ferro, anche contro Spacca e Solazzi che erano contrari e incassato il successo per il primo round. Animatissimo il dibattito che ha preceduto il voto, Franca Romagnoli, rappresentante di Fratelli d'Italia, ha definito la scelta di consentire l'ingresso in giunta di sei assessori esterni come la possibilità di far rientrare politici sconfitti. I prossimi 60 giorni saranno delicatissimi. Lo statuto, entro Natale, ripassa in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva e il PD dovrà confermare gli stessi voti. Con questa riforma viene però in parte mortificata la scelta fatta un anno fa dallo stesso Consiglio regionale che aveva portato il numero di consiglieri da 42 a 31. Con l'ingresso degli esterni si sale così a 37. Intanto escono le prime indiscrezioni per quanto riguarda le possibili candidature a governatore delle Marche. Dai microfoni di Radio 2, Alessia Morani, deputata PD, ora Renziana di Ferro, ha affermato che fare il governatore della propria regione è la cosa più bella che ci possa essere.